Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vedremo un pirografo e i suoi componenti e vedremo come inserire una punta sul pirografo. Si tratta di un pirografo di qualità e permette la lavorazione molto precisa perché la corrente che scorre in queste punte che fluisce in queste punte è uniforme quindi permette di lavorazione di precisione la punta si riscalda in modo uniforme non a cali di temperatura. Grazie a tutti.